Cari amici di Ivy, sono Max Laudadio e in compagnia di Pietro Galizzi e il grandissimo Mario Fargetta saremo protagonisti della cena di beneficenza Il Bello che fa bene. Però vogliamo promuovere qualcosa di diverso oggi, vero Pietro? Sì Max, siamo qui in realtà per aiutare Ivy a promuovere il progetto L'altro tuo figlio con il quale Ivy vuole garantire bossi di studio e lavoro per adolescenti e mamme sole. E cosa dovete fare se volete aiutare Ivy? Cosa devono fare Mario se vogliono aiutare? Semplice Max, tenete a mente questo indirizzo telematico che vi do al sito www.aivy.it slash raccolta fondi e fate le vostre donazioni per questa bellissima iniziativa. Mi raccomando aiutate Ivy perché il bello fa bene.